dopo la morte del genero mara veniersi è detta distrutta sui social la presentatrice ha scritto pier si è stato un genero meraviglioso e portato solo gioia e amore nella nostra famiglia ed io ti ho voluto bene come un figlio siamo tutti annientati tutto troppo veloce rip le parole di mara veniersi social dopo la scomparsa di pier francesco forleo il marito di sua figlia elisabetta